ciao a tutti doggy io sono doggy color faccio veloce lento perchè ragazzi siamo qui su un gioco fantastico che allora ragazzi si chiama un attimo natural ok dai vabbè si certo c'è anche toni ciao toni siamo su natural disaster survival e ragazzi ci state scrivendo un sacco di messaggi grazie mille salutiamo per questo chi ci ha consigliato salutiamo sofali 1105 ovvero jj ali che ha detto in un commento ci ha scritto doggy io ti consiglio di giocare a natural disaster survival ps sono sofali 1105 ciao 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 allora qui c'è anche toni l'abbiamo già salutato vediamo un po' anche sono tua nonna che astuce color official che non si sa bene perchè è sempre nei nostri video ma cosa vuole da noi ma cosa vuoi ma vai via ma io non lo so no vabbè stiamo scherzando comunque perchè è già partito noi siamo ancora qui ah sono di sopravvissuto siamo infatti già potati allora quindi sofali pota colpa dei doggy perchè mica io ci ho messo tanto dentro no proprio colpa mia colpa mia a parte che qui parla tipo il russo non lo so e ragazzi siamo qui in in questo gioco e ragazzi oggi appunto lo stiamo provando e noi l'abbiamo già provato se siete fan proprio inizio 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 del nostro canale l'avevamo già provato quando io registravo da computer che l'audio era di schifo cioè era bruttissimo ma lasciamo stare la mia povera voce non aveva una vita no ma che cosa dobbiamo fare? dobbiamo allora io ti do un consiglio in questa mappa sali a metà delle scale perchè se c'è un terremoto scendi giù se c'è un uno tsunami mi sali sopra ok allora rimaniamo qua rimaniamo qua si si brava doggy no 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 seguimi rimaniamo qui che poi abbiamo già pronta la scaletta ma dove sei? doggy mi vedi? no non ti vedi vai a scala eccomi doggy rimaniamo qui che abbiamo già pronta lì la scaletta grigia tsunami andiamo sopra ok bravo Tony bravo ragazzi c'è la piccola in passato ci giocavo gatto trattino basso 125 ciao e oddio ma quante scale ci sono? oh no nooo andiamo ancora a nooo mi hanno fatto morire qualcuno mi ha spinta antipotico antipotico che mi ha spinta Che è successo Ok ragazzi Scusate Tony smettila Scusate ma Avevo staccato un attimo La registrazione Sono stupida Vabbè lasciamo stare Ok allora 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 Io dico sempre allora allora Orange Sono caduta Stavo cantando La mappa distrutta Stavo per dire guardate quanto è distrutta E mi vedo d'occhi davanti Vola 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 Non cantare Nei miei video Antipatico Ah ecco sono tua nonna Ah nessuno Fantastico Daticamente io sono andato su quello tsunami Sono caduta al piano giù Dove sei caduta tu doggy E poi è caduta tutta la struttura E sono volato dritto nell'acqua Oh no doggy Qui se comparo nel tsunami siamo spacciati Cosa? Allora Io ti do un consiglio doggy Saliamo sulla costruzione grigia Dove sei? Sull'arco strano grigia Ma sei tu? Ma non sei te? Sì Ah ecco ti sei tu No perché ti avevo confuso per quest'altro Ciao Sì l'ho vista Abbiamo i pantaloni diversi E anche la corporatura Diciamo Allora ragazzi Questa L'ultima Che facciamo Perché ragazzi Questi video sinceramente Non possono durare chissà che Com'è vero Oh no No Evita i tipi Ma vai via Ma che vuoi? Ma io non lo No Lasciano tipo delle sostanze Viola per terra Ma perché escono da me le sostanze? Non ho capito Sei infettata Madre mia Ah io posso infettarti No Non mi lascia Allontanati Dove? Sono caduto Colpatica Ma Che antipatico Mi hai fatto cadere Stupido Allora Mi ho salvato tutti quanti Vabbè ragazzi A parte che Tony mi ha fatto cadere Per tante volte Tante volte Antipatico lui Antipatico Hashtag Tony antipatico No dai Non lo scrivete No Wee Vabbè ragazzi Ringraziamo La fan Per Questo fantastico Come si chiama Dio Questo fantastico Ringraziamo la fan Per Averti fatto giocare A questo fantastico gioco E ciao ragazzi Ciao Un bacio Aspettati Ah ragazzi E ricordatevi di scrivere Qui sotto nei commenti Cosa devono scrivere Dovete scrivere la modalità E che cosa dobbiamo fare Io e Don't In quella modalità Ciao